Benvenuti nel mondo Istomer, dove la ricerca scientifica sulle cellule staminali, vegetali e l'innovazione cosmetologica si fondono per realizzare prodotti dedicati alla cura e alla bellezza del corpo. Grazie alla sua formula, Istomer Vitamina C rinnova profondamente la pelle, la rende nettamente più tesa ed elastica, molto più luminosa, cancellando le macchie scure e combattendo alla radice le cause di invecchiamento. Prima di iniziare il trattamento, è importante detergere e tonificare accuratamente la zona viso da ogni impurità, utilizzando la linea Istomer Basic Formula. Avvalendosi di Istomer Cleansing Milk, detergere delicatamente viso, collo e decolleté con movimenti circolari ed in seguito procedere all'azione tonificante con Istomer Basic Toner. La pelle ora è pronta a ricevere i benefici del trattamento Vitamin C. Si inizia il trattamento con la fiala Vitamina C pura. Miscelando la polvere di Vitamina C pura contenuta nel tappo serbatoio, con il concentrato liquido di cellule staminali vegetali, si innesca la cosiddetta fase d'urto. Ossigenando i tessuti più profondi, si stimola la formazione di collagene e si rivitalizza l'epidermide. Con l'apposito contagocce, sarà possibile dosare la quantità di prodotto da distribuire su viso e decolleté. Massaggiare delicatamente, sino a completo assorbimento. La fase centrale del trattamento prevede la preparazione della maschera Lightning Mask più Vitamin C, che svolge un'azione occlusiva, favorendo la miglior veicolazione di estratti quali Vitamina C, Salice e Liquirizia, e senza dalle note proprietà illuminanti ed ossigenanti. Si procede miscelando il contenuto della busta con circa 80 cl di acqua a temperatura ambiente. Una volta pronto, si prosegue rapidamente con l'applicazione. Utilizzando l'apposita spatola, si stende il composto in maniera omogenea, evitando accuratamente la zona occhi. È importante che i bordi della maschera mantengano uno spessore superiore, affinché la successiva rimozione risulti facilitata. Il tempo di posa è di circa 20 minuti. Dopo aver atteso il tempo necessario, si procede con la rimozione della maschera partendo dal décolleté, effettuando delicati ma decisi strappi. Assicurandosi una piena pulizia con l'ausilio di Istomer Basic Toner, si affronta l'ultima fase del trattamento. È ora venuto il momento di finalizzare il trattamento applicando C-Fascial Emulsion, crema finale a base di cellule staminali vegetali e bisabololo, per un'azione anti-age, ossigenante e nutritiva. Al fine di rafforzare e mantenere i risultati ottenuti dal trattamento professionale, è necessario l'utilizzo dei prodotti dedicati alla cura domiciliare.